Buongiorno e benvenuti alla Tre Fontane di Roma. Questa è Roma-Sampdoria, quattordicesima giornata di Serie A femminile eBay. Chiamo lo schema però Ionna, poi cerca la conclusione Tampieri. Rimanda la Roma dalla bandierina. Rivediamo la sua traiettoria, ben calciata, forte, centrale. Di cercare compagne all'interno dell'area di rigore. Le indicazioni anche di Ursini. Smentiti, c'è lo scambio. Ionna, il cross, a rientrare con il destro, palla che passa e sottoporta. Arriva il gol dell'1-0, Linari, sempre più. Difensore Bomber, sesto gol in campionato, 1-0 Roma. Rivediamo. Scambiano. Giuliano Ionna, il cross della 18, buca Giacinti. È lì, sottoporta Linari, giudicato in posizione regolare da Ursini del primo assistente, Vincenzo Abbinante. Il vantaggio delle giallorosse, qui l'esultanza di Linari. Prosegui il copione giallorosso. Minami per Ionna. Fa sedere l'avversaria, Ionna, due volte, Ionna solo. Ionna, sinistro, palla sul secondo pallo, non arriva nessuna compagna. Azione da PlayStation, quindi Benedetta Ionna. Qui brava Giuliano ad anticipare l'avversaria, mettere il movimento ove che nello spazio aperto è devastante. Seguiamo il suo sinistro, il cross basso, Giacinti, due volte Giacinti, alla fine Giacinti, esterno della rete. Sorride Amara qui, l'ex attaccante del Milan, che ha trovato tre volte la conclusione in maniera più o meno rocambulesca. Seguiamo qua il replay, ove, Giacinti, passa benissimo una volta, a rimpallo, parata di Tampieri. Poi ancora lei da pochi passi, Linari. Con il sinistro, buona l'idea per Giacinti, tocco sotto, Tampieri l'aspetta lì. Gran palla di Linari, infatti c'è quasi di ok Baragrazia e qui di Giacinti. Sta arbitrando molto correntemente, senza fisiare questo tipo di interventi. Intanto Ionna, Vienne, Tampieri, Mura. La canadese poi rimane a terra, calcio d'angolo per la Roma, il primo della ripresa. Si è aperta qui la possibilità di servire in profondità Ionna, Greggi, campo aperto per la Roma. Alla fine Vienne abbatte Tampieri in uscita, dopo che però aveva già calciato, tutto regolare. Corner per la Roma. Trova Vienne, che può puntare l'area di rigore. Ionna. In cinque al centro, ove il cross, secondo palo, ora Ionna. Fajer Singer, lo stop, il salvataggio sulla linea. Non è finita, altra possibilità, ove. Il tocco per Ionna, che anticipa Schatzera, Giuliano. Ove, mandata all'uno contro uno, specialità della casa. Contro Liviero, vuole il fondo. Il cross, deviazione, Greggi! 2-0 Roma, Giada. Greggi era a doppio giallorosso. E festa per le ragazze di Spugna. Quarto gol in campionato per Reggi. Juventus che torna a meno tre, un 1-0, che fatica a essere però certificato del gol del raddoppio. Qui Reggi, è un gol non banale, si è tutta sola, ma è brava, lo rivediamo nel replay. Si alza questo pallone, tiene la caviglia ferma, si posiziona con il corpo, colpo da biliardo e raddoppio romanista. Toccheranno ancora corto. 5 saltari in aria, Minami sul primo palo, Kumagai sul secondo, Linari al centro, arriva. Kumagai con il destro, colpisce l'avversario, poi Linari, Tampieri, dice di no al difensore Bomber, vicina alla doppietta personale. 14 presenze, 1 ogni 2, media da numero 9, più che da difensore centrale. Qui Kumagai colpo sicuro, colpisce della peruta, come ha detto entrata. Fogler Singer, punta Schatzar vicino a lei, Sonstavold, servita, crossa, con il mancino interno, il colpo di testa. Tampieri in qualche modo sulla linea, due volte, si salva la Sampdoria, intervento difettoso qui di Tampieri. Palla che viaggia sulla linea, ancora Linari. con il gol cerca spesso il pallone mentre nella Roma entrerà Ciccotti. Qui Greggi, a giro Greggi, traversa dopo l'ottimo intervento di Tampieri. Qui arrivi, vediamo, Ove, Greggi, a giro, grande parata di Tampieri. Va a puntare Schatzar. Passa Greggi, è un altro passapunto, Giuliano, con il destro Giuliano, Tampieri che spinge. Qui Corpela rischia tantissimo sull'attacco di Tati, della peruta. Cerca la conclusione da lontanissimo, e Corpela riprende posizione, abbraccia il pallone. Che ha avuto anche Baldi del mercato di gennaio, ma qui, invece, arriva il triplice, fischio di Ursini, con 30 secondi d'anticipo. Dice che basta così, ha vinto la Roma, ha vinto per 2-0, ha vinto meritatamente.